Una cucina professionale, una sala da allestire, un nuovo ristorante da dirigere. Questo è fuori menù. Due coppie di aspiranti chef si sfideranno a suon di ricette. Dovranno gestire uno staff di professionisti e una vera brigata di cucina. Le regole del gioco sono semplici, la sfida durissima. Due ore per preparare un menù completo, un'ora e mezza per il servizio, 20 commensali da conquistare. Non sarà per niente facile. E a fare in modo che tutto sia perfetto ci sarò io e tutto sarà perfetto, ve lo assicuro. Vabbè, perfetto.